buongiorno amici del canale buongiorno dal vostro nick juve stasera giornata di coppa giornata importante per quelli dell'inter perché ambiscono ad avere un trofeo prestigioso perché vorrebbero arrivare al nostro numero 14 se non ricordo male 12 ho perso il conto e gli manca qualche trofeo a disposizione e quindi tenteranno stasera di avvicinarsi ai nostri numeri detto questo c'è un qualcosa che non mi torna c'è un qualcosa che non mi quadra più di un qualcosa che non mi torna non mi quadra ed è l'articolo l'articolo sul giornale che ha fatto uscire gazzetta ieri ecco facendo notare quelli che sono i risvolti i risultati di una possibile e sempre più probabile sanzione da parte dell'uefa loro tendenzialmente quando mettono qualcosa sul giornale hanno sempre qualche spiffero che gli arriva da qualche parte e quindi fanno i fenomeni ma è una cosa che già sappiamo ragazzi non è che andiamo a nascondersi dietro un dito aspettiamo le loro cagate o le loro porcate che escano per cadere dal pero è quello che vogliono fare cioè il discorso è sempre più o meno il solito con una piccola differenza adesso cioè che avevano chiesto alla juventus di poter patteggiare in una specifica accordo tacito per cercare di non arrivare a uno scontro ancora più duro e violento sempre da parte della lega loro stessi e la juventus sembrava voler chiudere la questione entro questa stagione dicendo bene ok chiudiamo questa porcata perché ce ne siamo veramente rotti gli zebedei per essere un po meno volgare ma sempre mirato e ok faccio veniamoci incontro in modo che io chiudo questo casino al adesso e non mi riporto nulla alla prossima stagione ma invece no perché sembra che per sentimento popolare la lega si stia rimangiando anche questa parola perché dice che se va a fare una specie di accordo con noi della juventus il sentimento popolare il populino il mediocre di turno come sempre accade per quanto riguarda il sentimento anti juventino e potrebbe dire azzo avete visto si sono messi anche in accordo pur di non punirli e di farli saltare ed ecco che potrebbe ritrattarsi e ritirare questa parola per quel che riguarda la contrattazione e il atteggiamento e si profila anche giustamente perché quello non aspetta altro una possibile squalifica per qualche anno da parte della juventus dalle competizioni europee dalle farze europee perché sottolino e sostengo da anni io sono pochissimo sul canale youtube però sostengo da anni nei pur parler con amici con con chiunque si ci si ritrova al bar piuttosto che per la strada quando si va a parlare di sport o di squadre che la europa league l'europa league e la champions o l'ultima conferenza neanche la menziono siano le competizioni più farsa più farsa della storia del calcio moderno perché penso che se dovessero andare veramente realmente a controllare tutte le cose successe o meno le porcate fatte e le squadre che hanno fatto vincere hanno facilitato gli ultimi sorteggi ne hanno dato la disponibilità hanno dato la visione chiara e reale di dove possono arrivare mettere tre squadre da un lato del tabellone perché alla fine sanno benissimo che una su tre va in finale questo vi fa capire la portata della porcaggine e del circo al quale stiamo tranquillamente assistendo stasera ci sarà quest'altra partita del circo dove i maggiori esponenti da anni da circo l'ultimo circo non era orfei ma era prescrittopoli si chiamava l'ultimo circolo e circolo e circo stasera faremo questa partita qui personalmente come sto dicendo non in questo video che al solito qualcuno potrebbe dire ma tu l'hai detto adesso no sono tre quattro cinque sei video che lo dico a me di questa coppa non me ne frega un emerito cazzo scusate quest'altro termine un po poco elegante lo stesso dell'europa league le dessero a chi vogliono a chi ha bisogno a chi deve fare un po di curriculum a chi deve accontentare un pochino quei quattro tifosetti che vincono una volta ogni quattro anni ogni cinque anni o 12 anni o 23 anni o chi giustamente come in quel di milano fa la semifinale di champions dopo 16 anni il milano dopo 2010 al 2023 dopo 14 anni 13 anni l'inter aiutassero chi ne ha più bisogno perché se il signore disse porgi l'altra guancia anche noi della juventus non dobbiamo essere da meno ricordiamocelo sempre detto questo stasera ci sarà doveri che aspetterò con ansia indipendentemente da come vada mi auguro presto finisca questa stagione presco presto facciala questa punizione dell'uscita dalle competizioni europee anche ceferin perché si è reso conto anche lui nei suoi calcoli che gravina sta andando un po troppo oltre gli arbitri stanno andando un po troppo oltre potrebbe sollevarsi un problema poi dove la figici potrebbe essere attaccata per movimentazione un po anomale o situazione un po anomale e allora sta prendendo mano lui a fare quello che non voleva fare perché voleva che gravina e stromettesse la juventus in qualsiasi modo dalle competizioni europee ci stanno riuscendo perché un punto qui un punto al napoli due punti con la lazio eccetera 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 un punto con la lazio e tre punti persi col sassuolo eccetera eccetera ti portano comunque quello che dicevo io qualche tempo fa ci faranno perdere dei punti in campo fra 30 giorni ci daranno una mini ammenda di quei 5 6 punti associati a quelli che ci avranno fatto perdere al campo ci faranno uscire dalle competizioni europee e con poi il carico che metterà ceferin si andrà a essere stromessi dalle competizioni europee penso per almeno due anni da quello che credo vogliano fare e vogliono farci detto questo ragazzi molta pazienza molta calma grazie a dio gli ultimi 13 anni 12 anni abbiamo messo 20 trofei in bacheca non siate stanchi di questo nel senso questo è un momento che passerà come passo quello del 2006 il problema è che hanno di nuovo fatto male i conti tornammo dal 2006 e vedevo persone lanciarsi dai balconi gente ricoverata urcere pomate per il deretano prese a gogo bruciori al deretano a raffica quindi prescrizioni di ricette a man bassa perché tanti avevano bisogno di disintossicarsi perché due trofei all'anno due trofei all'anno per dieci anni ecco stavano arrivando e qui era diminuita anche a livello demografico la popolazione in italia perché gli infarti ecco erano aumentati e dovevano fermarci in qualche modo ragazzi quindi lasciamo vincere anche gli altri facciamo vincere questo campionato a quelli che sono 33 anni 33 anni infatti prima passo cristo mi disse gli anni miei era ora che lo vincessero gli si guardi cristo lei ha perfettamente ragione ma sono passati 33 anni era giusto che diressimo anche a loro un qualcosina e quindi diamo la coppa italia all'inter che con la fiorentina ok ok lì commisso se perde non fa niente diamo anche una conference una conference perché se gli prendiamo la coppa italia ok ok una conference per italiano e mister ok è giusto è giusto ci sta magari un europa league diamo alla roma visto che l'anno scorso ha fatto la conference quindi facciamo fare quello step e attenzione a una tra inter e milan diamo la champions lo scudetto al napoli diciamo che quest'anno gravina si è meritato la posizione di vice presidente UEFA very very compliments like anche a questo video ragazzi mi raccomando iscrizione al canale un abbraccio a tutti anche a quelli che commentano in maniera strana o meno infatti a quelli che commentano in maniera strana o mettendo qualche parola fuori posto fuori luogo fate il giro e andate a largo su questo canale si parla in maniera educata civile si può commentare tranquillamente in maniera educata il civile le offese datele ad altri su questo canale ci vuole rispetto grazie like canale di nick juve mi raccomando attivate la campanella così verrete sempre aggiornati su ogni mio video un abbraccio una buona giornata ciao